Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! E dai, partiamo! Visita anche il mio blog su TrovaVolantini. Vuoi vedere un altro volantino? Grazie! 80.000 iscritti raggiunti! Grazie di cuore! Ora con il vostro sostegno, puntiamo dritti ai 100.000! 80.000 volte grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori! E tu, in quale negozio vai? Scrivele nei commenti! Grazie a tutti! 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 Su TrovaVolantini.it le offerte della tua città a portata di un click Grazie per la visione 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 Grazie per la visione